Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi fase numero 4 del prigioniero. Volete sapere dove si trova? Andiamo a prenderla assieme ragazzi, andiamo a prenderla insieme. Si trova nella parte più alta della mappa. Come vedete il nostro amico Kevin ci ha puntato esattamente il punto preciso e quindi ragazzi andiamo insieme a prenderla. Lui già si butta, mi butto insieme, lui ha già la fase numero 4. Finalmente ragazzi arriva anche il momento di sbloccare l'ultima fase del prigioniero. Vi ricordo intanto ragazzi di lasciare un bel like, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi in tantissimi. Ed ecco qua ragazzi, ed ecco qua esattamente la posizione che si vedeva. Si accendono tutti i fuochi e il prigioniero raggiunge la fase numero 4. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo presto. Ciao!